Brute notizie in merito al punto nascite arcense. Nei giorni scorsi l'assessore alla sanità Luca Zeni ha incontrato il direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute Andrea Urbani e il presidente del Comitato Nazionale per Corso Nascita Gianfranco Iorizzo. Abbiamo chiesto, spiega Zeni, un confronto tecnico che consenta di valutare la possibilità di rendere più flessibili gli standard previsti. Con delle condizioni e tempi non certo brevi abbiamo avuto un'apertura per Cavalese mentre per Arco non c'è nulla da fare. I funzionari del Ministero sono stati chiari, non si riaprirà la valutazione su Arco e Tione. Il consigliere provinciale Luca Giuliani dal canto suo chiede di tornare a discutere del punto nascita mentre l'onorevole Mauro Ottobre è ben più duro. Siamo pronti a marciare su Trento se non arriveranno risposte sul punto nascita di Arco. Siamo in tanti, imprenditori compresi, pronti a far valere il diritto dell'Alto Garda e Ledro. Se il nostro territorio continuerà ad essere bistrattato ci sarà una protesta pacifica ma rigorosa. Siamo pronti a bloccare Trento per un paio d'ore così magari qualcuno comprenderà i disagi che tutti i giorni proviamo sul fronte della viabilità. Saliremo nel capoluogo con trattori, autotreni e automobili a concluso ottobre.